Parole travisate o comunque prive di pregiudizio, è il fulcro dell'opinione espressa dal professor Silvio Tafuri, responsabile della campagna vaccinale del Policlinico di Bari e docente di gene all'Università Aldo Moro, in relazione al caos scatenato dalle dichiarazioni del sottosegretario della salute Marcello Gemmato in merito all'efficacia dei vaccini contro la mortalità da Covid-19. Parole che secondo Tafuri esprimono la lecita volontà di Marcello Gemmato di riferirsi ad una mera valutazione scientifica del caso. Da un lato i vaccini sono sicuramente il principale intervento sanitario della storia e la campagna vaccinale che abbiamo portato avanti è la più grande campagna vaccinale nella storia dell'umanità, neanche il vaiolo fu di quella portata. Dall'altro lato è anche corretto e rigoroso dire che tutti gli interventi sanitari devono essere oggetto di valutazione e monitoraggio senza preconcetti alla base. A margine del commento sulla vicenda che vede coinvolto il sottosegretario della salute, il docente ha poi confermato l'utilità di quella che di fatto è la campagna vaccinale più grande in termini di portata della storia dell'umanità nel limitare in Italia come nel resto del mondo la mortalità causata dalla pandemia da Covid-19. La campagna vaccinale ha sortito un effetto, quello di divaricare il numero di casi dal numero degli ospedalizzati e dei deceduti. Questo è stato l'importante effetto. È vero che non c'è stato un grande arretramento sul numero di soggetti con infezione ma sicuramente c'è stato un importantissimo effetto sia sul numero di malati gravi, sia sul numero di ospedalizzati, sia sul numero di recessi. Questo lo dicono i dati epidemiologici.